130 anni sono una bella responsabilità, una bellissima età per un giovanotto come il Mattino. Tanti auguri. Il Mattino, un quotidiano importante, che è stato molto importante nella mia vita. Ricordo che era il quotidiano preferito di mio nome, era sempre una copia con sede, è stato il quotidiano che mi ha accompagnato durante tutti gli anni di università e che mi accompagna ancora nella mia vita giornaliera. Augurissimi. Tantissimi auguri al Mattino. Vi auguro che possiate continuare a raccontare per altri 130 anni, ma anche molti, molti di più, le sfide degli scienziati nostrani, come avete fatto finora. Tantissimi auguri. Al quotidiano il Mattino, il più importante giornale del mezzogiorno. Ad un quotidiano che ha raccontato per 130 anni ogni giorno la nostra storia. Miei auguri al Mattino per questo anniversario a tutte le donne, gli uomini che ci lavorano, che ci hanno lavorato. Mi sia consentito di citarne uno in particolare, Giancarlo Siani, che ha fatto tanto per il nostro territorio. Auguri a tutti. Auguri di buon compleanno al Mattino, un giornale che la storia la fa e la racconta. Gli auguri più affettuosi al direttore, a tutti i direttori che si sono poi avvicendati, a tutta la redazione attuale, passata, a nome mio personale e di tutto il team di Gifoli. Ero ancora un ragazzo quando ho cominciato a dirigere a Napoli. Prima alla Scarlati, poi al San Carlo. E da subito ho apprezzato il Mattino per la vivacità dei suoi contenuti e per l'importanza che dà agli avvenimenti musicali non soltanto di Napoli. Il Mattino mi appartiene fin dalla prima infanzia, fin da quando mio nonno me lo mandò a comprare, ricordo, la prima volta ed io sbagliando andai al bar anziché all'edicola perché pensavo intendesse il mottino con il caffè e latte. Ebbene auguri al Mattino il grande giornale del Sud ma con rispiro nazionale. Auguri al Mattino anche da parte mia, io sono Carmen Pellegrino e mi piace ricordare in questa occasione la figura di Matilde Serrao, la sua indipendenza, anche la sua risata grossa che la rendeva immediatamente riconoscibile. L'augurio è che si possa tornare a scrivere presto parole di pace, parole di libertà. Tanti 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 auguri di buon compleanno al Mattino che da 130 anni è una delle voci storiche della città che è stata in grado di raccontare il quotidiano in modo sempre attuale e continua a farlo con grandissima professionalità. Tanti auguri. Carissimo Mattino, il giornale della mia vita, il giornale dei miei genitori, dei miei amici, di mio figlio, è il giornale di sempre, che ho sempre letto e che sempre leggerò. 130 anni e un Guinness che neanche gli imbonitori televisivi più convinti della miracolosità dei prodotti che vendono, o che è un po' lo stesso i politici convinti di ignorare l'anagrafe e si sarebbero mai sognati di raggiungere. Bene, il Mattino ce l'ha fatta e questa è una bellissima notizia per il giornalismo, per la cultura, per la lettura della realtà. Io personalmente ne sono felice perché il Mattino è un giornale in cui ho scritto per quasi vent'anni e oggi non posso che battere le mani con gioia. Un grande auguri al quotidiano del Mattino che quest'anno festeggia ben 130 anni di attività, un'occasione per un quotidiano molto importante, per rappresentarsi ancora come megafono della libertà e del libero pensiero, della libera circolazione delle idee. auguro al Mattino a tutto lo staff altri 130 anni di storia. Un augurio grande al Mattino per un traguardo importantissimo sui primi 130 anni, al giornale storico di Napoli. Auguri, auguri a una delle voci che hanno rappresentato l'opinione pubblica di questo Paese da ben 130 anni. Il Mattino è un elemento di sicurezza, un elemento che dà a noi e alla città una condizione di informazione seria, concreta, quotidiana, professionalmente molto valida e quindi è un'eccellenza del meridione. Leggo il Mattino sin da quando ero ragazzo. A casa dei miei genitori il Mattino era sinonimo di quotidiano. Dicevi vai a comprare il giornale e il giornale era ovviamente il Mattino. Fin dalla sua fondazione con Serraio Scarpoglio il Mattino è stata una palestra di dibattiti, di confronti. Una vetrina in cui difendere gli interessi del meridione e di tutta l'Italia, come uno dei grandi mezzi di informazione del nostro Paese. In bocca al lupo, caro Mattino. Il Mattino a me molto caro, dove ho mosso i primi passi di un mio percorso professionale. Auguri, 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 auguri per altri tanti, tanti anni di libertà e di informazione. Ciao Mattino.